Buongiorno e benvenuti al TG5. Per l'Europa oggi è il giorno del via ufficiale al Fondo Salva Stati, lo strumento scelto dall'Eurogruppo. È il momento delle previsioni del tempo, il TG5 torna alle 18 e poi alle 20. Grazie per averci seguito, una buona giornata a tutti. Grazie a tutti.